Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Shadow Tomb Raider Bene, continuiamo pure E' un rimasto del presente precedente Che buono, vediamo un po' cosa c'è qui Ma porca vacca, mi sono già perso Si può perdere sempre però Ok, qui ho 24 e 14 Va bene Andiamo di qua Sempre posti molto larghi, eh Proprio a pelo di tetta lì C'è un magico Andiamo avanti, va Ok, questo c'è una Sì, sì, ti risponde sicuro Se c'è, sta tranquillo Che tanto dice chiunque ci sia E' lì pronto a dirti qualcosa Fatemi vedere, va Che cosa inquietante Ma No, no, facciamo di no Facciamo di no, va Allora, guardiamo bene Perché a volte E dico a volte Ci può essere qualcosa di interessante O sfide particolari Vediamo un po' Se c'è qualcosa da prendere con l'arco Da, tutte cose così Quanto è che mi farà fabbricare? Adesso non mi ricordo Oh, ma qui c'è la roba da rompere Che dopo serve Io penso che è meglio che vado qua Io penso che è meglio che mi sono perso E non posso farci niente E quindi io questa Questa cosa Posso farla da qua Molto Molto semplicemente Ecco, ok Oh, interessante Che vista incredibile Vero? Fantastico L'RTX Che rende tanto E' veramente bello E' fantastico Mi spiace che YouTube Purtroppo Perda così tanto Un vero peccato Che una piattaforma di Di video Faccia ste cacate Però insomma Ok Vediamo dove devo andare Sicuramente Quasi sicuramente di sotto Vediamo un po' Ok Aspettatevi Devo andare più possibile Ok Infatti vai tanto giù Scusa, ho sbagliato il pulsante Ok Vai di qua Vai di là Vai di qua Vai di là E poi cacatatà Per cadere giù Come al solito è mio Poi ci si torna giù Però forse giù si può fare qualcosa All'istante ce ne sono tante Milioni di milioni La rete non opererò Ecco ci siamo fatto Perché voglio vedere un attico Se magari qui c'è qualcosa Che mi è? Ripetutamente Vedete? Questa è la scorciatoia Questo è il compulsivo proprio Eccola qua E basta E questo Esatto Era quello che avevo visto Primula E quindi abbiamo la scorciatoia Beh sono tanto contento Dai Vediamo se c'è qualcosa di buono Magari qui c'è qualcosa Sapete che a volte Magari questa è l'uscita Sì Ecco Abbiamo capito che da qui Non possiamo andare via Va bene Dai L'importante è che ci capiamo Geromico Mamma mia Come si è spezzata Tutte le costie Ecco Qui si può salire Qui si può andare Fatemi vedere Perché mai Io posso salire Mentre a mezz'aria Primi Ok Io ho capito il tutto Voglio prima vedere Scusate Se qui si può fare qualcosa Perché Vedete che c'è l'oro L'oro è la risorsa Che è a vendere Ci facciamo dei bei sodoni Vai vai Spacca tutto Cinque pezzi d'oro Che sono tanti Eh che cavolo Mi sono lavato il monitor Una sputacchiata da panico Però almeno adesso vedi i colori Beh è una cosa buona Dai Ok Quindi mentre sono così Premiè E vai Oh Già poi In momenti mi cadevo giù E mi facevo tanto malo Allora Qui c'è tanta roba Qui c'è tanta roba Presumo che debba andare lì A naso Eh però Vediamo più Quindi prendiamo un po' di cose qui Ce ne sono tante Milioni di milioni Ecco una sega Ok Mamma mia quanta roba Aspetta un attico Ah questo è polvere d'asparago Va bene Oh bello Bello Ah Altasanta Vediamo un po' se c'è altro Sì c'è altro Eh vedete che Porca miseria Bisogna sempre esplorare Non l'avevo proprio visto Ma porca miseria Se ne facessero più visibili ste cose Ci vado proprio dal naso io Perché Maledetto questo posto Maledetta questa giungla Prima ti agita un gioiello sotto il naso E poi ti fa lo sgambetto Ah Abbiamo quasi attraversato quel pozzo senza fondo Una sorta di altare ci attende dalla parte opposta Sotto un gigantesco volto di pietra Che sembra prendersi gioco di noi Qualcosa ha attaccato l'accampamento Alcuni sostengono che siano state pantere Altri che si tratti di qualcosa di più sinistro Metà degli uomini insiste per abbandonare la spedizione Ho dovuto punirne uno per farne un esempio Mi serve solo un altro giorno Un altro maledetto giorno Perfetto Proprio poetico Oh che cosa bella e gradita Però che abbiamo trovato questa roba qui E poi non è neanche tutta Comunque dai È molto rigiocabile questo gioco Mi fa piaciore Perché dai sono soldi che ho costato questo gioco Quando usci Io ho preso Uno dei pochi giochi che ho presi al lancio Ho visto qualcosa muoversi Devo riuscire ad attraversare il senote Ed è costata la full edition L'avevo pagata super scontato Invece di 110 l'avevo pagata 60 euro Però comunque sono 60 euro Che non crescevano sugli alberi Devo riuscire ad attraversare il senote Allora vediamo un po' Cerchiamo di capire Come poter fare questa cosa Devo riuscire ad attraversare il senote Allora lì c'è una cosa da fare Però non capisco come Forse girando questa Sì dai forse sarà così Adesso io qua cosina mi ricordo Ho giocato due anni e mezzo fa Però insomma Non è che sia proprio tantissimo Ah no di qua non posso andare Quindi devo andare indietro Ok Andiamo Allora in teoria direi di sì Perché avrebbe senso Quindi facciamo così E così Ok E quindi poi facciamo così E quindi andiamo lì Ok questo l'ho capito E vediamo un po' come fare dopo Ok vai giù Grande Poi vai qua Aspetta che non ho visto se c'era qualcosa Devo riuscire ad attraversare il senote Sì non rilassata però eh Io voglio solo vedere se c'è qualcosa Ok Qui c'è E qui c'è E qui c'è Oh che bella cosa Devo riuscire ad attraversare il senote Eh purtroppo ogni volta che premo Q mi dice sempre le stesse cose Eh questo Questo non si preme Ah ecco dall'altra parte Ok Non so cosa serva eh Eh che fatica Che fatica Cosa ho fatto Devo riuscire ad attraversare il senote Oh ho capito adesso Ci ho messo 30 anni Scusatemi tanto Eh però a me non l'ho capito C'è qualcosa che io possa fare Questo torno indietro Qui c'è una corda Sto pensando Scusatemi So che sono una palla Dove l'attaccherei questa corda? L'attacco L'attacco Io non lo posso attaccare Purtroppo La posso attaccare lì E là Mi sembra Un po' strano Non ci arrivo Ci penso e vi dico Dai facciamo Sono qui tre ore Ok ecco ma qui Mi sono rivisto Uno dei miei video Così almeno ho fatto prima Non sto a perdere tempo Dobbiamo semplicemente Eh andare qui sopra Poi Dobbiamo andare qua Dobbiamo tagliare la corda Che avevamo messo precedentemente F Perfetto Dobbiamo girare questo coso Riportarlo alla posizione Che era primula Che era di qua Perfetto Ottico Poi spediamo Spariamo Adesso mettiamoci In posizione giusta Spariamo qui Mettiamo lì Perfetto Ritorniamo qua Beh non era Non era difficile È solo che di Un attimo Pensarci Tutto qua Ma niente di che E andiamo di qua Poi spostiamo questo Che Al dato che abbiamo messo la corda Scusate Non mi va invanti No indietro E così sì Dato che abbiamo messo la corda Ci dà più tempo Per noi Di riuscire a fare questo E siamo a posto La corda si spezzerà Però ce l'abbiamo fatta Ok Perfetto Non era difficile Bisogna solo pensarci Un attimo Tutto qua E lì c'è la nostra Ricompensa Ok Vediamo pure E vai Hola Ci abbiamo fatta Deve esserci un punto Per arrampicarsi E raggiungere l'altare Sì C'è Rilassata Perché Mi stai mettendo ansia Io ogni volta Che spingo il pulsante Mi di avere un premarone Eccoci qua Già abbiamo fatto Un'altra E insomma sì Deve esserci un punto Per arrampicarsi E raggiungere l'altare Ok Qui c'è questo Funghi No I funghi Mi interessano Ok 50C Non è tantissimo Sotto il vigile occhio Di uno dei signori Della morte Si apre il barco Che conduce a Shibalba Che tutti devono attraversare Nel tragitto Tra questa vita E la prossima Ok Perfetto Voglio vedere se c'è qualcos'altro Scusate ma io sono curioso Qui ho detto che non c'è niente Qui non c'è niente Qui siamo venuti Ok andiamo pure avanti E scendiamo Scendiamo il cazzo Perché qui Moriamo Deve esserci un punto Per arrampicarsi E raggiungere l'altare Punto per arrampicarsi E raggiungere l'altare Adesso è un'altra figura di merda Sta arrivando Perché La farò sicuramente Deve esserci un punto Per arrampicarsi E raggiungere l'altare Ok Lo troveremo Per me è qua Così a naso Ok Io ho spinto lei Stavo pigendo Lei Sei proprio un animale E vabbè Può capitare Sempre a me però Capita E' quello il problema Ecco qui Ok Adesso facciamo così Poi facciamo lì Ok Vedete Ops Ma chi è che mi sta tirando Tutte queste cose Eh Era per vedere Se i riflessi non pronti A prenderlo in piena faccia E ha funzionato benissimo Eh Proprio bene 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 Ok Allora Riproviamoci No Figura di merda Eh Porca vacca Vai Ok Poi E perché ho mille pulsanti Da premere Con la tastiera Non è facile Eccola qua Poi Andiamo subito qua Ok Oh Adesso ce l'ho fatta Scusatevi Avete pazienza Devo prendere Per forza il joypad Perché se no Se no Se no Cado giù per terra E facciamo un giro giro tondo Ok Scusate ma Che ci volete fare Ok Stiamo salendo Dai che ce la facciamo E siamo a postolo Un po' di fake Può capitare Dai Io li faccio tanti Ok Perfettico Ci siamo Ci siamo E vediamo Oh ma qui c'è qualcosa Vai Eh Devo stare un po' più lontano Forse Ok Tira Composibilmente Perfettico E qui abbiamo dell'oro Vero Si Che qualcuno fa Venderlo E' una cosa che porta Tanto buono E qui abbiamo la nostra ricompensa Prima scopriamo Tutto quanto Perché vedo Altra roba E siamo a postolo Finiamo Qui cosa c'è C'è ancora oro E c'è ancora oro Bene abbiamo tanto Quello contento E qui c'è la nostra ricompensa Vai Scusate Vai Perfettico Un'altra ricetta Picco dell'aquila Ti permette di muoverti In modo più agile E veloce Infatti Eh beh Mi serve proprio Mi serve proprio Ci ho fatto delle figuracce Ci identi a me E che non si può Non si può proprio Dai Allora Vediamo se c'è qualcos'altro Non c'è nient'altro Quindi L'uscita In teoria Dove Dov'è Da qui Ok da qui Da qui mi sembra Un'uscita Mi sembra tanto Un'uscita Da qui Vediamo un po' E opla Opla Brava l'aretta Brava l'aretta Ok Sei stata tanto brava Adesso scendiamo Con pace Tranquillità Non è che mi Che mi ho lasciato Qualcosa in giro Vero Mi sembra Dai Mentre sei in aria Premi Ok Ok Ola La bella scivolata Di culo proprio Così ci siamo spoccati tutti E qui Ci deve essere sicuramente qualcosa Perfettico Vai Vediamo se c'è qualcosa Che ho lasciato indietro Magari Qualcosa viene fuori Non viene fuori niente Quindi adesso Facciamo così Oh che bello Oh che divertente Eccoci qua E non c'è nient'altro E questa è l'uscita Perfetto Dai è andata bene Sono contento Possiamo tornare tranquillamente via E abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare Bene dai Se ho lasciato qualcosa indietro Spero di no Questa cos'è già L'accampamento Perché me lo dà Come non visitato Usate Perché c'ho un attimo di Come non visitato Mi sembra stata leggenda E ovviamente ho sbagliato Ok niente Il capo base Mi dà 3 di 4 Però io li ho Tutti e 4 1, 2 3 qua E 4 là Non so perché Non me lo dia così Però magari Mi li guardo tutti E mi li fa già fare Ok Adesso andiamo Semplicemente dove Ci ha chiesto lui Che è Esattamente dove Ditto per ditto Fino a zona Ok Andiamo pure Siamo a posto Di nuovo la La camminata Così siamo a posto Mosè Perfettico Siamo quasi arrivati Dai un po' di pazienza Siamo quasi Indirittura Quella là insomma Quella che Una volta che era Diritta Si arrivava Ecco Posto Andiamo da zona Trovato qualcosa Un altro di quegli Altari maia E cosa Un vecchio accampamento Distrutto Dobbiamo continuare D'accordo Ok Vedete Che cazzo c'è Mi scelta Si non mi interessa La miscelta di Avele Non prima Roni Vedete Me lo dà bianco Nonostante che io L'abbia Comunque visitato E comunque Abbiamo delle abilità Le vediamo C'è quella che ci ha Regalato Che è questa E poi Vediamo se ne possiamo Prendere un'altra Ma due sono Purtroppo Sono tutti a due E ci aspetteremo Dai Che faccia E quindi Continua a dirmi Che ce n'è una qua Quando saremo di nuovo Sulla strada Per la città segreta Le rovine maglia Dovrebbero spiccare Vedrò Allora se adesso Vedete io faccio così Non mi è una grigia Quindi L'abbiamo comunque Visitata Anche se dice Tre di quattro Probabilmente sarà una Lassù Che non ho visto Ok Possiamo andare Da Giona Che non mi ricordo più Dov'è Giona è di qua Ok Andiamo C'è tanta roba Cerchiamo di prendere Dopo torneremo indietro Appena c'è il teletrasportico Così prendiamo Quello che abbiamo lasciato Non ci sta nient'altro Oh sono già pieno di qualcosa È molto interessante Vediamo un po' Dov'è Qua Oggetti No Fattimento Fabbricazione Che cosa sono Di pieno Questo Piante O devo trovare il metodo Di ampliare la cosa O devo andare subito A vendere Ma non abbiamo trovato Ancora un vendor Quindi sarà anche Un po' difficile vendere E vabbè Patienza Forse possiamo uscire di là Adi C'è solo questo Non è che abbiamo Tanto da dire Ok Come al solito Passa prima lui Più passi te Vero Lara È proprio cavalleria 3 2 1 Ecco qui L'altra cagate Ma Si sono cagate Oh beh ha fatto passare Lei Dai è stato gentile Dai Oh cazzo Oh santa Miseria È certo Ci sta muzzicando Le spalle Alleluia Hai pensato a qualcosa Ah gli hai dato Una gubitata Ecco qua Perfetto C'è tutta piena di sangue Lara Come farai muoverti Non lo so Eh ma aspetta un attico Eh ma che cazzo Eh che cazzo Eh che cazzo No che ho rispinto Eh ma Shiva Non mi puoi prendere Il quick time event Così Non trovo le frecce Eccole Ho trovato le frecce Frecce Tante frecce Prendile le frecce Perfetto Adesso se mi arrivi Almeno Vai Oh Certo che Oh Mamma mia Che pazienza Perfetto Allora L'ho ucciso Ah Fatica Lui proprio Tranquillo eh Non venire Noi siamo Siamo qua Posso prendere qualcosa Per questa fatica Ci si da dio proprio Una pasqua C'è la F1 Per curarsi Vero Capito Però non mi curi Boh Non lo so Dopo ci guardo Si si Sto da dio Un fiore Proprio Adesso prende un po' di roba E vengo da te Tutte le frecce Che c'erano Porca miseria Era pieno Vediamo un po' Se c'è qualcosa Qui Mi sento che c'è qualcosa Qui Mi sento che c'è qualcosa E' la che palle Sono andando a lui Perché se no Rompi i marroni Non lo smette più Allora andiamo da lui Va Sì 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 ho qua Su me Stai bene? Dammi una mano qui Ok Fatica eh Hai dei brutti tagli Eh già Adesso Meglio accamparci Perfetto Oddio Che fatica E intanto Si pede la pelle Fa la sarta Brava Lara Fammi dare un'occhiata Eh deve fare un gran male Sai Con tutto quello che ci è capitato Di recente Ho iniziato a pensare A mio fratello Ho sempre provato A proteggerlo Da mio padre Da se stesso Ma l'ho perso Hai fatto tutto ciò che potevi Se fossi stato al posto giusto Al momento giusto Lui sarebbe ancora qui Se solo Fossi stato un po' più attento Non puoi proteggere tutti Giona Grazie Mi manca Lo so I miei genitori Mi mancano molto Ho sognato mia madre Di recente Davvero? Mh Era così chiaro Quando ero piccola Mio padre mi teneva nascoste Alcune cose Aveva segreti Su di lei Soprattutto E per quale motivo? Pensava mi avrebbero fatta soffrire Dopo che morì Non mi ha mai impedito Di cercare risposte Però Anche se ho ancora Così tante domande Ha creato tanti misteri Quanti ne ha risolti Dominguez ha detto Che avrebbe usato Lo scrigno d'argento Di Ischel Per ricreare il mondo Se tu avessi quel potere Cosa faresti? Andrei nel panico Direi Non torneresti a quando tuo fratello era vivo E stare ancora con lui E perdere tutto il resto Non potrei Mi piace questo mondo Non è Non è perfetto Ma tutto ciò che amo Oggi Ne fa parte Una bella cazzi Niente da dire Ok ragazzi Io direi che ci possiamo Anche filmarli qui Ricordiamo di tutto Il video come al solito Lo sarò anche Comitato Se mi piace la serie E di farmi sapere Cosa ne pensate E per adesso Vedo solo dove si va Ciao ciao Per conquistare il tesoro L'esploratrice Lara Croft Dovrà battere il re in astuzia Raggiungere la tomba proibita E risolvere il mistero Della regina bianca Il percorso sarà irto di ostacoli Lara Stai facendo i compiti di matematica? L'esploratrice non può perdere altro tempo Li sto cominciando L'esploratrice non può perdere altro tempo Io direi che la scella E risolvere il nostro corpo Cosimo